Mi presento, sono Michele Gatti del gruppo software industriale di Anie. Ad Anie Automazione ediriscono le imprese produttrici di beni e di servizi operanti nel campo dell'automazione dell'industria manifatturiera. Anie Automazione è parte di Anie, federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche. All'interno dell'associazione è presente un gruppo di lavoro dedicato al software industriale, i cui mondi IT e NDOT convergono per la digitalizzazione industriale nel manifatturiero. Il gruppo è composto da una trentina tra le più importanti imprese del settore, tra i suoi obiettivi è la promozione dei temi legati al 4.0 e dal ruolo del software industriale quale fattore abilitante della quarta rivoluzione industriale. Oggi parleremo di un modello di adossione delle tecnologie in chiave 4.0 per implementare quella che può essere la tracciabilità dei prodotti e dei materiali attraverso linee di produzione anche complesse. Un potenziale scenario è quando ci troviamo magari ad avere un revamping di nuove componenti o macchine posizionate sulla linea di produzione in cui magari i PLC e i sensori non sono già connessi nativamente tra loro o dispongono le funzionalità di tracking diciamo embeddate nell'automazione dell'impianto oppure casi in cui i software di supervisione non sono compatibili con i nuovi device atti allo scopo che andremo a posizionare sull'impianto. Utilizzando un approccio in retrofit possiamo andare chiaramente a calare nuove sensoristiche o nuovi device di acquisizione dati a bordo di linee già esistenti. Utilizzando gli IoT Gateway per la raccolta dei segnali in maniera come dire disaccoppiata da quella che è la comunicazione degli impianti è possibile raccogliere tutto il parco di dati grezzi che ci possono servire per implementare la tracciabilità. Utilizzando tecnologie ed appoggiando dei microservizi appunto sull'Edge è possibile localizzare le logiche di tracking a bordo impianto andando in sovrapposizione a quella che è l'automazione dell'impianto e questa architettura ci permette un'ampia scalabilità dal punto di vista delle prestazioni e della flessibilità di servizio. Unitamente al fatto che questo tipo di soluzione ci garantisce un'integrazione orizzontale attraverso diciamo tutto il comparto dello show floor quindi tra impianti differenti o processi differenti e verticalmente rispetto a tutte le altre diverse applicazioni che potrebbero essere presenti nello show floor quali messo i sistemi logistici. Un veloce sguardo all'architettura che prevede di avere la parte factory dove sono posizionati i sensori device che potrebbe che allocare con il nostro IoT great attraverso i protocolli di comunicazione industriali quindi OPC UA, Modbus piuttosto che nativi dei vari PLC e verticalmente a tutti i vari stack utilizzando quello del protocollo MQTT per far arrivare le informazioni agli altri layer applicativi del sistema. Nello specifico della nostra applicazione possiamo vedere questa tipologia di scenario di adozione. I sensori singoli o i PLC o altre componenti diciamo interfacciabili dell'impianto sono atte a raccogliere le informazioni e tramite l'IoT gateway possono essere distribuite sia a livelli di analytics quindi di cloud piuttosto che sistemi di BI o di machine learning sia attraverso la sottoscrizione del nostro microservizio posizionato sull'edge possono essere utili per inviare queste informazioni diciamo alla nostra macchina che ha stati finiti che implementa il tracking sull'impianto. Come potete vedere l'unione di queste informazioni diciamo lette direttamente dall'impianto unitamente a quelli che possono essere i dati e i parametri gestionali che possono arrivare ad esempio da un sistema NES quindi i dati dell'ordine di produzione dei materiali o delle configurazioni delle ricette d'impianto permettono di implementare la logica di tracciabilità del materiale al fine di deduzumere gli eventi di tracciabilità quindi quando il materiale passa in determinate stazioni della macchina a livello di edge dove sono posizionate quelle che sono le logiche di aggregazione e correlazione di queste informazioni e possono poi essere ridistribuite a tutte le componenti applicative che ne possono avere necessità quindi tipicamente i sistemi MES per implementare quella che ha tracciabilità di prodotto e di utilizzo dei materiali lungo tutta la filiera di produzione dello stabilimento fino ad arrivare a poter essere consumabili anche dagli ERP da altre applicazioni in cloud o in generale da tutte le componenti che abbiamo posizionate sugli impianti questi sono i principali benefici che ci danno ovviamente un'ottimizzazione della performance sugli spianti un miglioramento qualitativo per effetto stesso dell'implementata tracciabilità disponendo contestualmente di un monitor centralizzato e di analytics in tempo reale su tutti quelli che sono i dati delle componenti di prodotto che possiamo raccogliere attraverso il ciclo di produzione contestualmente a questo avremo ovviamente un beneficio dato dalla visibilità di tutti gli attori che sono coinvolti nella catena produttiva grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti